Oh, l'ho visto, sta qua dentro, andiamo, andiamo a beccarli, andiamo a beccarli, altrimenti non becchiamo mai. Sì, vieni, vieni. No, ci volevo chiedere... No, fai tutto, prendi tutto, eh. Che prendi tutto? Che è? No, ti volevo chiedere, mi fai l'intervista dello spettacolo? Ma te? Spettacolo mio. Che spettacolo? Oh, lo spettacolo mio... Ma che è? No, aspetta. Andate, se ritorni. Il bello e il cattivo tempo. Il bello e il cattivo tempo. Sì, ma che è? Ma non è così. E lo spettacolo... Non si sa l'intervista da tutti. Mi hai fatto male, stando di Carlo, quando ti insegno... A me non va bene. Ma non è così. No, sì, ma chi sei? Sono Michele Balzano. Oh, sono il protagonista dello spettacolo... Ma che spettacolo? 23, 24, da tutto teatro, fammelo in servizio. Ma non ecco, cioè, mi devi mandare la mail. Oh, riprendi tutto. Ma ti riprendi, non devi riprendi. Aspetta, Fede. Ma mi chiesto. Ma in realtà posso mandare la mail, perché non ce l'avevo la domenica. Non pensa. Vabbè, sul sito. Il bello e il cattivo tempo. Mi mandi la mail e poi andiamo in servizio. Vabbè, ora mi sono portato pure il cameraman. Dai, il cameraman. Il cameraman. Oggi ero andata e non so se ritorno. All'argento teatro. All'argento teatro. Il 24. No, non è così. Bello e il cattivo tempo. Come ti chiami? Michele Bazzano. Michele Bazzano. Che farà uno spettacolo. Dove? Che sono io. Che sei inizio. Dove lo fai il tuo spettacolo? All'accento teatro. All'accento teatro. A via Gustavo Bianchi, 12A, mi raccomando. Foggia, Roma, andata e non so se ritorno. Sono i soldi per lei da. Quanto costa? Tento un po' di pizza. Ma che po' di pizza? Quel cosa da... Vabbè, 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 Vabbè. Grazie a tutti.